cari amici di mille un'avventura siamo arrivati come sempre all'anteprima che ci mostrerà che cosa pensiamo di fare la prossima settimana naturalmente tempo permettendo come avete visto questa settimana abbiamo avuto un po di difficoltà a portare a termine tutti i nostri progetti andiamo subito a vedere che cosa abbiamo portato abbiamo parlato come sempre del di inform 7 il nostro amatissimo inform 7 rispondendo alle domande di un iscritto che ci chiedeva come nascondere oggetti sotto altri oggetti e penso di aver risposto in modo adeguato poi siamo passati a un gameplay di questo gioco per commodore 64 che è un porting di un famoso gioco di 20 anni fa zuma deluxe e vedete che l'effetto che dottor non mi ricordo più chi è riuscito a ottenere è davvero valido perché è riuscito a riprodurre su un computer limitato come il commodore 64 è riuscito a riportare cose che 20 anni dopo sarebbe stato molto più facile riprodurre davvero è gratis potete giocarlo vi divertirete se vi piace il commodore 64 poi siamo passati a questa nuova avventura completamente in italiano scritta in italiano da un autore italiano che ha creato anche tutta la scenografia a basso numero di poligoni ma stilosa diciamo così ecco c'è questa avventura testuale che anzi sono così abituato questa avventura grafica che è completamente nuova disponibile su steam a modico prezzo quindi se vi piacciono le avventure grafiche qualcosa da provare se volete appunto capire di cosa si tratta se non avete ancora visto il video dategli un'occhiata così magari apprezzerete almeno questo inizio poi c'è molto altro dopo che non ho ancora visto quindi non vi so dire esattamente come sia tutto il resto ma dai filmati che ho visto c'è molto altro da vedere io purtroppo ho giocato solo l'inizio e altro gameplay abbiamo giocato questa avventura questa volta testuale che è stata realizzata da robie e che ci ha adesso qui sono un po raddoppiato perché ho aperto il video a schermo intero ecco quindi mi vedete un po sotto che che spunto ecco ci ha proposto robie questo questa avventura testuale scritta con pandor più perciò una tecnica una tecnologia per cercare di creare avventure testuali che merita considerazione perciò se non l'avete mai provate volete creare qualche avventura testuale con uno strumento anche questo creato da autori italiani fateci un pensierino e poi abbiamo visto ecco qui ovviamente attesissimo i videogiochi degli iscritti e abbiamo mostrato due giochi di salvo che come vedete ha creato questo farm simulator con zucche da raccogliere banane poi bisogna seminare quindi è tutto da scoprire questo gioco è ancora in fase di sviluppo poi avevamo visto un suo asteroids che anche questo merita insomma visto che è realizzato con construct 3 e poi abbiamo dato un'occhiata a questo downtown che è stato realizzato da adamantium fist e purtroppo non abbiamo avuto tempo di giocarlo quindi lo proponiamo l'abbiamo proposto nel video senza capirci assolutamente nulla come vedete abbiamo vagato su questo bello scenario molto ben realizzato con tutti questi effetti grafici e abbiamo alla fine capito guardando un video tutorial che ha a che fare con della frutta che deve essere creata e che deve resistere agli attacchi di ragni che vogliono abbattere il cancello non ho idea di come funzioni ma lo proverò più avanti perché non ho davvero avuto tempo ma c'era il videogioco il video dei videogiochi degli iscritti e allora non potevo che suggerirlo e potete provarlo voi stessi per vedere com'è realizzato e sembra molto ben curato dal punto di vista grafico non so com'è il gameplay purtroppo ma lo scoprirò e poi abbiamo visto ovviamente altro gameplay il finale di stagione di call of duty warzone 2.0 in cui abbiamo disperatamente tentato di recuperare un'esfiltrazione con questo con questa radioattività che ci inseguiva e abbiamo incontrato dei giocatori italiani che però non ci hanno aspettati e quindi è finita male ma l'avete visto se l'avete visto comunque finale di stagione vedremo com'è la nuova stagione prossimamente e ora scopriamo le varie attività che ci aspettano la prossima settimana probabilmente un video su call of duty warzone 2 potrebbe anche scapparci magari una diretta visto che inizia la nuova stagione e quindi ci faremo una capatina come al solito molto così estemporanea per vedere com'è la nuova stagione ma a parte quello che cercheremo di inserire nella settimana torneremo a parlare di inform 7 e visto che ci abbiamo preso gusto cominceremo a trattare alcune estensioni tradotte in italiano che possiamo aggiungere sulla versione 10 l'ultimissima versione di inform 7 che è open source e quindi comincia ad essere sensato andare a recuperare le nostre vecchie estensioni convertendole per questa versione open source quindi inform 7 come sempre sarà il video di lunedì poi martedì passeremo ai processori invece di fare solo un video sull'assembly del processore 6510 del commodore 64 proveremo con un semplicissimo algoritmo a fare un confronto tra diversi processori sicuramente vedremo il 6502 a confronto con lo z80 dello zx spectrum e se ci riusciamo ci infiliamo anche l'intel 80 80 o magari più recenti così facciamo qualcosa di meno antico come si suol dire faremo quindi assembly ma un confronto su un semplice algoritmo dei diversi processori a 8 bit ma anche magari più recenti poi mercoledì passeremo a questo tristero scopriremo che cos'è ha a che fare col multiplayer se non resistete andatevelo a vedere perché è interessante questa tecnica per mettere in comunicazione più giocatori su una stessa pagina lo andrò analizzare però ripeto è qui la pagina la vedete se siete già curiosi non state nella pelle andate a vedere che c'entra tutta questa frutta che cliccando sto lasciando cadere però lo vedrete insomma se avete pazienza ve lo mostrerò anch'io poi andremo a scoprire questo toon football unity è un progetto completo per unity che realizza un una partita di calcio o un intero torneo di calcio e vedete ci sono questi scenari a basso numero di poligoni ci sono questi calciatori che si muovono andremo a vedere all'opera all'interno di unity vedremo se riusciremo a fare qualche piccola modifica e magari per il prossimo per i prossimi mondiali i prossimi europei riusciremo a uscire col nostro gioco già pronto con tutte le varie nazionali che ci saranno e qui è saltato fuori depeche mode il nostro gun qui che si mostra ma non c'entra nulla con il video sul toon football poi parleremo di tini c un compilatore c molto semplice molto veloce forse non ottimizzato che avevo usato per l'apocalypse 3d engine all'interno di apocalypse c'era un compilatore di linguaggio c che al volo prendeva il codice lo convertiva immediatamente in codice in linguaggio macchina utilizzabile all'interno di apocalypse può darsi che sia un argomento che ho già trattato però è sempre bello tornare sul linguaggio c sui compilatori e in particolare sull'apocalypse 3d engine e infine se riusciamo ma in alternativa ci sarà il gameplay della nuova stagione di call of duty warzone 2 versione di mz ecco più probabile che ci sia il gameplay perché faccio prima a farlo ecco dovremmo finalmente riuscire già ho messo le mani avanti non ci riuscirò a realizzare quel path finding sulla nostra sul nostro terreno a esagoni con i sentieri tracciati sopra ecco però ripeto lì dipende da quanto tempo a disposizione un gameplay ci vuole un attimo scrivere un po di codice che funzioni ci vuole molto più tempo e quindi avrete pazienza se come al solito questi progetti in cui bisogna programmare bisogna un po procrastinarli perché in effetti il tempo a disposizione col lavoro è quello che è un video al giorno cerco di portarlo sempre perché è una cosa che mi sono prefissato sul canale vediamo fin quando riuscirò a farlo ma avete già visto la settimana scorsa si perdono un po di colpi e i vari video diventano effettivamente un po superficiali alcuni invece riusciamo a portarli a termine in modo un po più approfondito e sono di solito quelli che gli iscritti apprezzano di più poi la challenge è cercare di portare un video al giorno alcuni ecco sono davvero superficiali ma ci proviamo lo stesso e spero che appreziate in ogni caso quello che sto portando sul canale che sto cercando proprio di supportare continuamente per avere sempre più iscritti e poi un giorno magari riuscire a fare qualche video fatto bene con un po più di relax tra un video e l'altro per il momento però voglio arrivare a 3.000 iscritti e quindi martelliamo bene mi raccomando cliccate su mi piace qui sotto se vi piacciono ovviamente i video iscrivetevi se non siete iscritti insomma tutto quello che si suol dire in queste in queste situazioni ecco questo è quello che voglio proporvi se avete suggerimenti qui sotto nei commenti di altri argomenti che vi interessano di più non avete che da proporli a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede la prossima settimana e quindi ciao a tutti